Ciao ragazzi, io sono Ale, benvenuti in questo mio nuovo video. Questa sera sono qui per fare il videotrack ideato da Chiara SMR che si chiama Trova il tuo trigger 2020 e questo video consiste nel seguire otto punti e fare quindi otto, anzi più di otto trigger appunto tutti con delle determinate caratteristiche e questo lo trovo molto carino perché comunque permette di scoprire dei nuovi trigger anche perché io alcuni non li ho mai portati sul canale e sono un pochettino diversi dal solito insomma quindi spero vi piacciono per quanto riguarda i canali che ho deciso di taccare insomma sono Cricri ASMR poi Vero Wild ASMR E poi chiaramente può farlo chiunque voglia appunto provare a fare questo videotag e mettere poi l'hashtag Trova il tuo trigger 2020 in maniera da poter trovare il proprio video assieme a tutti gli altri di questo videotag Quindi iniziamo con il primo primo punto ossia tapping su un oggetto verde Io ho scelto questo verde diciamo che è un pochettino più simile al giallo perché è un verde fluo molto forte però vi assicuro che è verde ed è la custodietta la custodietta del mio apparecchio per i denti quello che metto di notte Secondo me fa anche un tapping carino Poi vi ricordo già che metterò nella descrizione tutti i vari link tutte le varie menzioni insomma dei canali che ho attaccato di cui parlerò insomma tutti i canali che nominerò e poi anche la timeline questa se mi ricorderò lo spero appunto metterò la timeline con tutti i vari suoni di questo video che vediamo a tutti i vari suoni di questo video e per aver guardato Poi proseguirei con il secondo trigger Visto che sono parecchi e soprattutto ce ne sono davvero di belli secondo me quindi voglio proseguire Secondo punto di questo video tag è un trigger dalla cucina Quindi un oggetto, un cibo o qualcosa insomma preso dalla cucina E io ho scelto, se riesco a prenderlo, questo Ossia un melograno, un melograno super, come dire, super biologico come potete vedere Perché l'ho visto insomma all'interno del portafrutta, se così si chiama E non l'ho detto cavolo questo qua potrebbe andare bene Per le foglie Perché ci sono queste foglie un pochettino secche Che secondo me fanno un bel suono Per le foglie Questo ad esempio è un trigger che non mi sarebbe mai venuto in mente di portarvi in un altro video ed è proprio per questo che trovo siano molto carini questi video tag o meglio questo video tag perché non avevo mai visto una simile Topping sul melograno Allora 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 Prossimo, prossimo punto, ossia il terzo punto di questo video è trigger preferito del momento, più inaudible Io ho scelto Allora 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 partire Addire due delle acque L'acqua ma ha esperto un po' di acqua perfettissimissimissimissima si la prima volta un pochettino da più 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 e devo dire che un pochettino per un pochettino per un pochettino per un pochettino per un pochettino questa qui sta avvenuto ovunque consecurity i con questo inadvertgo è quello che delle cose piccole delle cose le donne bisogna non so, non so, non so Grazie a tutti. 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 Scusate se mi sono un po' incartato però è davvero difficile da fare, un po' come tutti i mouth sounds. Quinto, quinto punto di questo video, scratching più soft spoken. Per quanto riguarda lo scratching ho deciso di portare questo vasettino in ceramica che fa uno scratching molto particolare. E secondo me, secondo me, con questo microfono non viene proprio benissimo, infatti per quello che non l'ho mai portato prima. non lo so, 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 preferisco parlare comunque un pochettino in whispering. ring, però in questo caso avete sentito anche un pochettino di soft spoken, così mi potete dire se vi piace o meno, però non lo so, faccio davvero molta fatica e secondo me con questo microfono non viene neanche molto bene, però il suono di questo vasettino è molto carino secondo me, uno scratching un po' diverso dal solito. Come è il sesto punto? Adesso bisogna fare un trigger con la F, nel mio caso ho scelto fazzoletti, il pacchetto dei fazzoletti, che è un suono che appartiene alla categoria dei gringlesounds, secondo me, e mi piace tantissimo. Se non sbaglio, questo è uno dei suoni che ho portato per la prima volta, quando testavo il microfono, nel primo video con questo microfono. Secondo me è bellissimo questo scricchialio, questo scopitio, poi c'è anche un po' di sticky finger, bello bello secondo me. qui grazie a tutti il settimo punto richiede un trigger con della carta e specifico come ha detto Chiara che per carta si intende qualsiasi tipo di carta quindi che sia un semplice vollo di carta della carta da forno della carta stagnola anche della carta plastificata da presumo, vari tipi di carta insomma io ho scelto la carta stagnola perché secondo me fa un suono molto scricchialoso ed è proprio il mio genere ok 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 k ok 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 super scricchiloso super scricchilos super scricchilos ok ragazzi siamo giunti all'ottavo ed ultimo punto di questo video che tra l'altro è quello che ho preferito in assoluto proprio di tutto il video perchè questo è uno... comprende insomma dei trigger che mi piacciono un sacco e vi spiego meglio bisogna fare un visual trigger a propria scelta e poi bisogna mettere come sottofondo dei layered sounds che sarebbero quelli che io solitamente chiamo double sounds o comunque più suoni sovrapposti nello stesso momento e che davvero lo adoro perchè chi mi segue da un pochettino comunque sa che mi piace quella tipologia di video proprio dedicata a tanti tanti coppi di suono comunque tanti suoni sovrapposti e quindi sono davvero felice che Chiara l'abbia inserito anche tra questi punti del video io come i visual trigger ho scelto questo, questo, questo qua che sarebbe tipo quello della rivoluzione dei pensieri che prendo e punto via abbinate i suoni che sentite a te sottofondo tra cui quella della pioggia che adoro bollente ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti